SIGLA Trovo il crimine così divertente, sapete? Sangue sugli omnibus! Cosa è successo? Era venuto qui proprio per indagare su alcune persone scomparse. Arrestano sempre il colpevole. Forse uno di voi vuole dare una mano a risolverlo. Tu perché lavori? Non so il nome. Cos'è successo? I giornali parlano solo della morte di tu, Penny. Usate il vostro acume per scavare ancora e scoprire se c'è dell'altro. L'hai trovato? Oh cielo! Non andrà a finire bene, vero? This is for the players.